Una gran signora che santo detta mi fa Gigi Finizio, Enzo, Avitabile e Nello Daniele L'attore Biagio Inzo stringeva l'altro figlio di Mario Da Vinci, Francesco Mentre alla funzione ha preso parte anche l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino Con l'ex pugile, Patrizio Oliva, anche il cabarettista Simone Schettino Mario Da Vinci è stata una voce di Napoli amatissima Ben prima dell'esplosione del fenomeno neomelodico Dall'epoca d'oro del Festival di Napoli Che vinse poi nel 1981 con il brano Amam Alla sceneggiata che rilanciò in città negli anni 70 L'artista a vero nome Alfonso Sorrentino Raccolse grandi successi anche all'estero Dalla Germania all'Australia In particolare negli USA dove si trasferì con la famiglia Dove nacque Sal, uno dei suoi sei figli 13 album, oltre 60 singoli Da Vinci ha avuto una lunga carriera Dalla piedigrotta al caffè Shantan Dal teatro al cinema popolare e alla televisione Napoli prima e dopo per esempio Nel 1976 il fortunato album Miracolo e Natale Fondò la compagnia teatrale Mario e Sal Da Vinci Con Nunzio Gallo e fu subito grandissimo successo Nel 2008 ancora con il figlio Sal Ritornerà a teatro per lo spettacolo Canto per amore di Gino Landi